Voi amministratori di condomini avete ricevuto un sollecito da parte del Comune, fra qualche giorno non ci saranno più queste bucalettere per la pubblicità, era proprio specificato, per quale motivo e come è stata accolta anche questa decisione dell'amministrazione comunale? Allora, diciamo che nei mesi scorsi c'è stato un incontro tra l'assessore Palermo, l'assessore Arramo e tutti coloro che fanno questa attività in maniera professionale di amministratori di condomini e nel tentativo di trovare una soluzione perché a volte è un problema questo dei volantini, si è ipotizzato di Comune Accordo di togliere in tutti i condomini le cassette esterne pubblicitarie perché anche se inizialmente hanno avuto un'efficacia perché i volantini venivano messi qua, con l'andata del tempo è andato a finire al contrario, cioè i ragazzi che effettuano il volantinaggio le mettono nelle cassette pubblicitarie, a distanza di qualche minuto, a distanza magari di un paio di ore, probabilmente qualcuno che non fa parte neanche del condominio o gli stessi condomini, probabilmente prendono questi volantini e li gettano a terra e da lì si determina, moltiplicato per tutta la città, un volare di volantini in tutte le parti da premettere che da ex, io prima facevo volantinaggio, fare un servizio del genere anche per le aziende che fanno il volantinaggio non ha risultati perché mettere 50 volantini in questa buca lettera e dopo due minuti questi volantini sono gettati a terra non ha senso perché si spendono soldi in tipografia, si spendono soldi per la distribuzione e quindi non ha senso, sarebbe meglio che invece chi fa il volantinaggio mette volantini all'interno delle singole buca lettere, quindi non sporcando l'esterno e quindi questa situazione da parte degli amministratori è stata accolta bene, speriamo che venga seguito da tutta la cittadinanza in maniera che non ci sia più questa situazione in cui i volantini vengono messi qua, rimangono per giorni, poi cadono e da lì si sporca tutto il territorio quindi è un modo per tutti assieme aiutare un po' la nostra collettività Molti però decidono anche di non ricevere questo tipo di avvisi pubblicitari, la legge lo prevede, loro scrivono quindi di non lasciare avvisi pubblicitari ma soltanto della posta come si potrebbe conciliare quindi la classica buca lettere con questa nuova esigenza delle imprese e comunque attraverso il volantinaggio di pubblicizzare le proprie attività? Lì in effetti ci sono esigenze diverse, c'è chi deve pubblicizzarsi perché deve portare avanti la sua attività e c'è chi è stanco di ricevere di continuo questi messaggi probabilmente sta nella via di mezzo, mettere un avviso, comunicare che non sono interessati al volantinaggio potrebbe essere un'ipotesi, certo è che mantenere come si è visto l'altro giorno 500-600 volantini in una cassettina che poi vanno fino a terra, in ogni caso questo credo che sia sbagliato quindi togliere questa situazione in ogni caso dovrebbe allentare un po' il problema poi diciamo queste due esigenze, l'esigenza di pubblicizzarsi e l'esigenza di non essere disturbato deve trovare un equilibrio in tutte e due cioè chi li distribuisce se capisce che c'è un avviso che non vuole non lo mette e chi invece lo deve ricevere alla fine non è un avviso, non è che per forza comunque speriamo che dia dei risultati perché in effetti è davvero un problema vedere tutti questi volantini a terra di continuo, dopo che si fa la pulizia la mattina e dopo neanche un'ora vedi di nuovo le strade piene di volantini, non sembra una cosa bella insomma